Ben rivisto! Oggi torniamo a parlare di pigrizia. In un precedente video abbiamo cercato di capire quali sono le cause principali della pigrizia, cosa ci ferma e ci fa stare sul divano. Oggi voglio suggerirti tre strategie utili per sbloccarti dal circolo vizioso della pigrizia. Se non mi conosci, io sono Angelo. In questo canale ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale, relazioni interpersonali. Se anche tu sei interessato alla psicologia e alla crescita personale, devi assolutamente iscriverti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche. Così riceverai un avviso ad ogni mio nuovo video. Con la tua iscrizione sosterrai questo mio progetto di divulgazione e entrerai a far parte di questa comunità di persone che vogliono migliorarsi. Come ti ho detto in presentazione, oggi torniamo a parlare di pigrizia. In un precedente video, ti lascio il link giù in descrizione, ti ho spiegato quali sono le cause principali della pigrizia. Oggi voglio cercare di illustrarti quali sono le strategie migliori per sbloccarti dall'ozio. Ma prima voglio riflettere con te su una frase di Cicerone, che sosteneva, parafrasandolo, che non è un uomo libero colui che ogni tanto non può oziare, perché è fondamentale ricordarci che un po' di pigrizia dei momenti di ozio sono utilissimi per la nostra salute psicologica. Quei momenti di ozio ci permettono di fermarci, di riflettere su noi stessi, di godere del tempo libero. Quindi se hai dei momenti di pigrizia, ti dedichi a dell'ozio, assolutamente non sentirti in colpa. Dall'altro verso però, quando la pigrizia diventa eccessiva e comincia a bloccarci nelle attività quotidiane, è importante riflettere su quali sono le cause, ma ancora più importante è cercare di capire come sbloccarsi da questa situazione. E proprio a questo scopo voglio dedicare il video di oggi. Se tendi ad essere un pigro patologico, vedi il video fino alla fine e credo che sicuramente troverai la strategia più utile a te. La prima strategia di cui voglio parlarti riguarda la bassa tolleranza alla frustrazione. Questa, come ti ho detto nel precedente video sulle cause della pigrizia, è uno dei fattori più frequenti nelle persone che si dedicano all'arte dell'ozio. Ma come possiamo superare questo? La bassa tolleranza alla pigrizia spesso è caratterizzata dall'idea che il raggiungimento di alcuni obiettivi è pesante e stressante e di conseguenza è meglio evitare. Vi è un'idea profonda di non essere in grado di tollerare il disagio, lo stress e la sofferenza che si devono provare per raggiungere alcuni obiettivi. Immaginiamo lo stress che deve provare un ragazzo per studiare un capitolo di storia per superare l'esame. Questo stress spesso viene interpretato, viene percepito come qualcosa di ingestibile, intollerabile. Ed è proprio questa idea di intollerabilità a far sì che la persona poi rinunci al suo obiettivo, rinunci a raggiungere il suo scopo e si dedichi alla poltrona. Se ti accorgi di avere una bassa tolleranza alla frustrazione e di cominciare subito a pensare che non ci riuscirò, è troppo difficile, è una cosa insopportabile, è importante che tu cominci a cambiare il tuo dialogo interiore. In video precedenti ti ho parlato di che cos'è il dialogo interiore e di come questo influenza il disagio psicologico. La cosa fondamentale è che puoi cambiare questo dialogo. Ogni volta che cominci a pensare che è intollerabile, che è ingestibile, che non ci riuscirai, riporta la memoria tutte le volte nelle quali sei riuscito a gestire situazioni di stress. Tutte le volte nelle quali hai pensato di non riuscirci ma alla fine ci sei riuscito. Questo breve, piccolissimo ma potentissimo esercizio ti aiuterà a prendere consapevolezza di quante e tantissime risorse hai dentro di te e che spesso sottovaluti. La seconda strategia è quella di abbassare gli standard severi, gli standard rigidi. Molte persone infatti quando vogliono raggiungere un obiettivo si pongono degli standard elevati da raggiungere. Se da un lato questo può sembrare motivante, dall'altro fa scatenare nella persona l'idea di non riuscirci e quindi di buttare la spugna. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi e ti accorgi che ti poni degli standard troppo severi, degli standard troppo elevati e che questi poi ti demotivano, cerca di riflettere su quali obiettivi vuoi realmente. Se ti sei posto un obiettivo molto importante, scomponilo in obiettivi più piccoli e più gestibili. Nel momento in cui ti sforzerai un minimo per raggiungere un piccolo obiettivo, aumenterà la motivazione a raggiungere l'obiettivo successivo e in men che non si dica avrai raggiunto il tuo scopo finale. La terza strategia che ti consiglio è quella di ricordare il perché delle cose. Molto spesso noi trasformiamo i nostri obiettivi, i nostri desideri in doveri. Penso a quante persone dicono devo andare in palestra, devo incontrare i miei amici, devo andare a prendere il caffè con la mia collega. Quando noi trasformiamo ciò che ci piace e i nostri desideri in doveri, tutto diventa più pesante. Prova a riflettere sulla tua quotidianità e a quante volte dici a te stesso che devi fare qualcosa. Gli eccessivi doveri possono inibire enormemente la tua voglia di agire e quindi renderti più pigro. Se vuoi veramente sbloccarti, se vuoi superare i momenti di pigrizia, rifletti su quali sono le motivazioni che ci sono dietro i tuoi obiettivi. Invece di pensare che devi andare in palestra, puoi ricordare a te stesso che scegli di andare in palestra per la tua salute e per essere più attraente. Invece di pensare che devi andare a cena con gli amici, puoi pensare che scegli di andarci perché vuoi condividere con loro del tempo e stare con le persone che ti vogliono bene. Attraverso un cambiamento di prospettiva molti doveri si sgretoleranno e torneranno alla luce le vere motivazioni motivanti. Quindi se vuoi sbloccarti dalle situazioni ricordati il perché stai facendo qualcosa, ricordati il tuo scopo finale, la tua meta. Spero che questi suggerimenti ti siano d'aiuto per superare i momenti di difficoltà e di blocco. Spero che tu riesca, grazie a questi esercizi, a superare i tuoi momenti di pigrizia. Se hai domande, dubbi, curiosità, tranquillamente puoi scrivere nei commenti. Da qualche settimana è attivo anche il mio canale Telegram. Lì ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale. Se vuoi entrare nella mia community iscriviti al canale, il link lo trovi giù in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video.